Io ho questa difficoltà, voi siete molto meglio, perché voi siete preparati su dei tempi molto ridotti a rispondere a domande. Io non so, non sono capace proprio. Poi se uno mi interrompe io perdo il senso, perché come fai a interrompermi? Perché? Ma scusa, ma io ho parlato con dei premi Nobel che non so mai nessuno, ma trago giù i premi Nobel che mi stavano a sentire, poi mi mettevano i consigli, ma nessun premio Nobel mi ha mai interromputo, erano curiosi di sapere. Questi qui mi interrompono, perché? No? Vi faccio un po' ridere, ragazzi. Sì, beh, qua non ridiamo mai. Vedo che ridete anche la battuta del 78-78. Non eravamo nati. Acchiappate proprio di tutto. Andiamo? Sono già in un'altra roba della canna. Ciao ragazzi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.